Nonostante la zona rossa, i varchi blindati dalle forze dell'ordine per i controlli delle norme anti-covid, i ladri ieri sera sono entrati in azione a Contrada Amoret, alle spalle dell'ospedale Moscati, in prossimità di un'altra area cittadina a metà di furti in appartamento, cioè Contrada Archi. Approfittando dell'assenza dei proprietari, malviventi hanno saccheggiato la villetta in lungo e largo, portando via oggetti in oro, preziosi, denaro ed orologi. Un bottino consistente, visto il valore dei preziosi. Le vittime del raid si sono accorte della visita solo quando sono rientrate a casa. Le stanze dell'immobile erano state messe a suo quadro, armadi e cassetti che custodivano denaro in contanti e gioielli, ripuliti fino all'osso. Dopo la scoperta sciocchi, i proprietari della villetta hanno avvertito i carabineri denunciandolo accaduto. Potrebbe trattarsi di un furto mirato, perché nella serata di ieri non sono stati registrati altri episodi del genere. Gli abitanti di Contrada Amoretta, così come quelli di Contrada Archi, da anni vivono nel terrore. Una zona più volte meta dei ladri d'appartamento. Alcune settimane fa, nei prezzi del pronto soccorso dell'ospedale Moscati, era stato perpetrato un furto clamoroso. Ladri in azione all'interno di una villetta, nonostante la presenza di un adolescente. Anche in quel caso i malviventi riuscirono a trafugare un incente bottino per poi darsi alla fuga per le campagne circostanti. La ragazzina non si era accorta di nulla, perché al momento del saccheggio si trovava al piano terra, rispetto alle camere da letto violate dai ladri.